A Verbagna mancano medici di famiglia. A evidenziare il problema è il sindaco Silvia Marchionini, che ha scritto una lettera ai vertici dell'ASA per chiedere un intervento. Marchionini spiega di aver ricevuto segnalazioni da tanti cittadini che hanno avuto difficoltà nell'individuazione e scelta di un medico di base sul territorio comunale e alcuni non ne avrebbero ancora trovato uno. Negli ultimi tempi, scrive la prima cittadina, numerosi medici di famiglia hanno raggiunto l'età pensionabile e per l'effetto i cittadini sono stati costretti a individuare nuovi medici di base riscontrando non poche difficoltà. Infatti alcuni di essi risultano ad oggi privi di medico curante, stante la limitata disponibilità di medici di base sul territorio comunale. Per questo il sindaco chiede l'intervento dell'azienda sanitaria. La criticità riscontrata sul territorio di Verbagna nella reperibilità e scelta del medico di base, prosegue la lettera, rende necessaria soprattutto in un momento storico come quello post-pandemico attuale la presente richiesta a volta ad ottenere un vostro tempestivo intervento che consenta di risolvere il problema legato alla carenza dei medici di base sul territorio comunale garantendo per l'effetto ai cittadini un pieno ed effettivo diritto alla salute. Per rispondere alle esigenze della popolazione per la città di Verbagna mancherebbero almeno sei medici di famiglia.